Giovanni Agnelli, detto Gianni, Torino, 12 marzo 1921 Torino, 24 gennaio 2003, è stato un imprenditore, socialite, dirigente sportivo e politico italiano, principale azionista e amministratore al vertice della Fiat, nonché senatore a vita ed ufficiale del regio esercito. La compagna segreta dell'avvocato Gianni Agnelli nel corso della sua vita ha avuto una nota passione per i motori, come si può immaginare dalla sua fondamentale presenza nelle dinamiche societarie della Fiat, ma anche dalle tante belle macchine che possedeva e guidava. Una però in particolar modo sembrava avergli fatto perdere la testa. A tal punto che in tanti l'hanno giudicata come una vera e propria amante dell'avvocato. Stiamo parlando della Fiat 125. Non un modello molto costoso e potente, ma che a quanto pare piaceva da impazzire all'ex presidente della Juventus. L'esemplare da lui posseduto è stato realizzato nel 1967 con un motore bialbero di 1,6 litri in grado di erogare 90 cavalli di potenza. La vettura in questione era dotata di trasmissione automatica. La macchina in questione, che Gianni Agnelli ha deciso di prendere di colore blu, a quanto pare è stata quella preferita dell'avvocato nel corso della sua vita. Suo nipote Lapo Elkan, figlio della secondogenita Margherita, aveva affermato tempo fa che la 125 era la vettura prediletta di suo nonno.